Grazie Nello Grazie a tutti Allora adesso vi devo presentare un... anzi no, il mio profilo lo tengo in mano perché poi devi cantare un grandissimo soprano di Forio ha una voce incredibile è la prima volta che la presento e ha fatto conoscere la sua arte in giro per l'Italia ed è bravissima signore e signori Giovanna Iacono facciamo un applauso a Giovanna che canta Torna sorriendo a Giovanna Iacono 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti